barzelletta del giorno c'è sta nuova dentro al ristorante pronto per mangiare si mette a sede arriva il cameriere buongiorno signore buongiorno allora oggi abbiamo no ci fermi un attimo e lo dico io come dice lei fermati prendi le posate allora oggi avete antipastino di pesce per primo pacca di allastice per secondo grigliata mista di pesce patatine fritte insalata caffè ammazza caffè ma lei me complimento perché lei è proprio bravissimo lo faccio per passione ah ma per passione ha capito e portami dopo qualche giorno ritorna diciamo vedi eccolo questo l'altra volta dice mo io vado io se ci riesce prendi le posate e lavavate tutte cavarecchina gli metterla sul tavolino questa dica buongiorno signore buongiorno allora oggi abbiamo penso io ben posati allora oggi avete antipastino di montagna poi avete fettuccine funghi porcini in alternativa fettuccine a ragù per secondo bistecchia di vitellone o pollo alla griglia e per contorno patatine al forno con l'insalata dell'ordo della casa ammazza ma lei ma lei è micidiale ce lo faccio per passione io ho capito ma lei guardi è una cosa proprio dopo qualche giorno ritorna dice rieccolo questo dice mo mo ce penso io vi hai posate va in cucina marì aiuto cuoco ma che c'è alzando la conna ma che cazzo vuoi mo da alzare la gomma alzando la conna c'è devo pensare io un attimo una cosa alzando la conna gli infila sotto i campi e ci stai posate ah ma ci stai a fare male zitta queste posate gli metterla sul tavolino questa arriva buongiorno signore buongiorno allora oggi abbiamo ci penso io prendo le posate oh ma da quanta che maria lavora qua dentro